salve a tutti quello che state sentendo di sottofondo è un pub irlandese c'è un gruppo che sta facendo musica tradizionale e volevo usarlo come base per dimostrare come il triple tambourin con l'uso appunto del mazzolino del bodran possa accompagnare anche la musica irlandese adesso si stanno scaldando praticamente è iniziato la cosa curiosa è che in questo filmato non c'è proprio il bodran per cui penso di potermi inserire senza disturbare troppo la cosa caratteristica come ho detto in altri filmati che qui a differenza del bodran si può aggiungere anche i suonari che non ci stanno nemmeno male il bodran ha un suono tendenzialmente cupo per cui si può rimanere sui tamburelli diciamo così gravi però volendo possiamo aggiungere anche quello acuto tanto per dare un po di colore e questi vanno avanti tutta la sera bevendo birra bevendo birra sempre a limiti potevo scegliere dei filmati di gente famosa ma questa scelta è ricaduta sui sugli avventori del pub proprio per far vedere che sei se si vuole se ci si vuole divertire si acchiappa il tamburello e si va in un pub irlandese ce ne sono tanti anche in Italia nelle grandi città buona 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 continuano a suonare. Io quello che dovevo dimostrare l'ho dimostrato e ci vediamo alla prossima, non lo so, magari con una musica pakistana visto che i tamburelli sono pakistani. Vi saluto tutti, alla prossima!